ok 15 ce ne manca una potresti crescere esattamente ora è cresciuta oddio come come è possibile non ci credo clippatela clippate tutti ragazzi non indovino che predica che cosa è questa musica piratesca sono caduto ma lo sapete perché sono caduto sono tutti in casa pozione salterina pozione velocizzante non fa niente lasciarci sosta senza lasciarci sosta attacchi perpetui ed infiniti mi ha preso in volo cioè mi ha preso in volo mi ha preso in volo mentre sto saltando con la cazzo di cosa ovviamente nessuno dovrà sapere che stiamo lavorando a questo buco eh al lavoro finito poi lo sapranno tutti fai la torre sotto esattamente faccio un mega buco che arriva fino alla bedrock inizio a scavare in questa live faccio pochino di altezza poi il resto lo faccio off camera perché se no mi rompo il cazzo magari usando la dnt adesso vado da fieric a dirgli tutto gne 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 chirito io vado a casa tua e shotto i tuoi genitori no sto scherzando sto scherzando io vado velocemente ok però fa bam easy killato ho shottato sua mamma è lì che fa come si fa a muorire in hardcore niente dicevamo devo andare da lori lori è oggettivamente sexy che cazzo sto leggendo oi la madonna cos'è successo qua attenzione ecco una piccola viva ecco in qualcosa di grosso non c'è anche un altro l'avete visto vero no 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 aspetta 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 cos'ètic enorme enorme dietro l'albero ma non è vero no 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 guardalo oh 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 scappate subito oddio raga oddio che brutto diamanti qua 3 2 1 vai con i tema ma tu che prediction let me just turn on my hacks come here Zofia you know that I see you do it do it yes let's go no I forgot to gap up no you Zofia I davvero tante tante cose son lillo son lillo poi non avete ancora conosciuto uno dei migliori giocatori di minecraft della storia italiana della storia della Sardegna sono proprio io fare un bordo con l'acqua usare la lava come se fosse un blocco così è facilissimo è facile no facile a dirlo facile a dirlo 100 volte fin quando non lo imparare a me vorrei lo faccio veloce ok e poi devo mettercene due dall'altro lato uno e due e poi l'acqua lui la mette signora i limoni la mette qua non ha funzionato ma perché no ho sbagliato dove la mette no ops ho sbagliato a metterla non ho capito non ho capito no parole come con quel tutorial ragazzi ma come cazzo dovremmo fare è facile solo a vederlo non a farlo aspettate ho sbagliato dove v'è che è il bacino? problema 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 coordinate raga ce l'avevo aperte le coordinate le coordinate le avevo aperte raga le coordinate io le avevo aperte per la faccia liftata e lo spawn po' mamma mia dimmi che sei fortunato senza dirmi che non sei fortunato parte 20